8,69% resta stabile attorno al 10% il tasso di positività dei tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Oggi in Abruzzo sono 400 i nuovi positivi di età compresa tra 1 e 99 anni su 4.599 test eseguiti. Continuano purtroppo i decessi. Nelle ultime ore sono 5 ma il totale da inizio emergenza resta invariato a quota 1.274 per effetto di un errore di calcolo dei giorni precedenti. La buona notizia arriva dal numero dei ricoverati in ospedale che cala di 17 unità dopo giorni di costante aumento in questo inizio 2021. 463 sono i pazienti ricoverati in area medica e 40 in aumento di 4 unità rispetto a ieri quelli che hanno bisogno della terapia intensiva. Cresce costantemente il numero delle guarigioni. Oggi al totale se ne aggiungono 229 arrivando a 24.901 ma aumentano anche gli attualmente positivi di 117 ora a quota 11.263 così come le persone costrette all'isolamento domiciliare in crescita di 184 per un totale di 10.760. Dopo questo ultimo weekend di zona arancione per l'Abruzzo da lunedì si prospette il ritorno alla normalità con la zona gialla che scatterà dopo quasi due mesi di restrizioni ma soprattutto con il ritorno in classe anche degli studenti delle scuole superiori. Però all'orizzonte c'è una nuova stretta da parte del governo che dovrebbe arrivare attraverso il DPCM di metà gennaio oltre al prolungamento dello stato di emergenza.